Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati, rewind day after the match, a proposito, complimenti per la partita, Rome, sei tornato tu alla grande, si vedeva, eh no, a parte gli scherzi, ragazzi, analizzeremo tutto di questa gara e anche di queste due settimane che ci aspettano e saranno lunghe, lunghe, lunghe. Do il bentornato Cristiano Corbo, ciao Cri. Ciao Lello, ciao Rome, un saluto a tutti alla chat. E il direttore, Romeo, in rosso, già, c'è aria di Natale quasi a momenti. Beh, ma posso dirti la verità, ci siamo quasi, eh? Dai, sì, sì, manca un saluto ormai. Vabbè, no, ma tu torni dalla sosta e ormai quasi novembre, novembre per me è un quale Natale, eh? Allora, Juve Cagliari, torniamo un po' alla giornata di ieri, alla partita di ieri, tocca farlo per quanto sia fastidioso. Ci sono tre temi. Intanto approfondiamo il primo tema, che è quello meno influente, secondo me, sul risultato finale, ma qui sicuramente va trattato. Io ho letto una grandissima statistica interessante da parte anche di Enrico Turchatto, di OptaPaolo, che parla appunto del fatto che in Serie A siano stati dati circa lo 0,46, cioè, non mi ricordo, il fatto sta che una partita su due c'è un rigore. Questa quasi è la media. 0,48. 0,48. Mentre gli altri campionati, è prima l'Italia nei top five campionati, mentre tipo la Bundes, la Premier League sta a distanza siderale, sopra distanza siderale da noi. Vi chiedo un commento sull'arbitraggio di ieri, sulla decisione di espellere con 6 South, tant'è vero che anche... Scarsi, sono scarsi. L'arbitro del Cannes ha detto, è stata eccessiva. Sono scarsi. Allora, a parte che domani, caro Corbo, preparati che torno a fare un editoriale. Ahia. Perché la Juventus in questo video di stagione è già stata martoriata dagli arbitraggi e dal bar. Penso. Retropassaggio col Napoli incredibilmente non dato. Penso alla roba di Pellegri con Gatti. Penso all'arbitraggio di Lipsia. Penso a quello che è accaduto ieri, quindi onestamente credo che sia anche giusto non battere i pugni perché non è il nostro stile, ma quantomeno cercare di far comprendere come la Juventus in questo video di stagione sia stata profondamente penalizzata. Partiamo da un concetto. Anche io ho letto la statistica a cui fai riferimento di Enrico Turchato. Di arbitri in Italia non arbitrano più. Non si prendono più responsabilità e si fanno guidare unicamente dalla tecnologia. La tecnologia, cosiddetto VAR, è opinabile, non è uno strumento oggettivo. Lo è per certe cose, ma non lo è per tante altre. E quindi siamo in un campo dove, non essendoci uniformità, ognuno ha la sua visione dello sviluppo delle cose. A me sembra che si stia prendendo una bruttissima deriva, ma ho ascoltato le parole di Paolo Fonseca ieri, che l'ho definito un circo. Io sono totalmente d'accordo con lui, perché Fonseca, che aveva mille motivi, no? Anche per fare, di fare mia colpa, in generale quello che sta vivendo Almira, ha detto, ma non è un discorso solo per gli episodi contro di noi, anche a favore. Minimo contatto, rigore. Poi però, c'è un contatto su Savona, ieri, che io onestamente mi ero perso. No, io l'ho visto subito, ragazzi. Io me l'ero perso, non sono sincero, me l'ero perso. E perché là non viene fischiato? Perché con 6SAU deve essere ammonito, quando probabilmente non era rigore, ma sicuramente non era simulazione. perché in certe situazioni c'è una condotta cosiddetta violenta e poi Gatti si prende una testata da Pellegri e passa tutto come se non fosse accaduto niente. Cioè, il fatto che non ci sia uniformità, il giudizio, sta andando semplicemente a creare interpretazioni che però rendono una corrida questa vicenda. Perché io non riesco più a capire onestamente chi abbia ragione. Su niente. Grazie Ramundo, ci arriviamo a parlare di campo e parleremo anche di coppia, perché no, ovviamente. Sono tutti sul banco degli imputtati, non credo si salvi qualcuno. Grazie mille per la donazione, ovviamente. Cri, invece, tu sull'arbitraggio, tu eri lo stesso allo stadio, che percezione hai avuto sulla gestione della gara, la gestione dei cartellini? Il giallo anche a Consissato, che non l'ha menzionato Romeo, ma credo si possa includere benissimo in una situazione così. No, mi ha lasciato, quasi ogni episodio mi ha lasciato abbastanza perplesso, anche sorpreso a volte. La sensazione avuta dallo stadio è che l'arbitro, a un certo punto, volesse dominare la partita. Dominarla proprio perché la stava perdendo, l'aveva ormai persa completamente di mano. L'atteggiamento che ha, e mi riferisco all'episodio dell'esposizione con Sesao, è palese, cioè non ha neanche un attimo per pensare a quello che sta succedendo. Guarda con Sesao, valuta che quello non è un tocco da calcio di rigore, automaticamente allora gli dà il secondo giallo per simulazione. Gli arbitri non colgono le sfumature, mi sembra di capire questo quest'anno soprattutto, ma anche negli anni passati. Il tema centrale è quello che diceva Romeo, cioè non si prendono più responsabilità, ma a prescindere, secondo me, va fatto proprio un ragionamento sul sistema di valutazione degli arbitri. Cioè gli arbitri, se sbagliano, retrocedono, perdono soldi, e poi si va ancora retroso in una situazione che oggettivamente facciamo sempre più fatica a capire. Cioè c'è una confusione generale sul regolamento. E ieri, se non sbaglio, Gilardino ha detto proprio, ah no, scusate, Nesta ha detto, io certe regole non le capisco, anche se me le spiegano, fatico poi a vedere effettivamente in campo l'applicazione di queste regole. Ed è una cosa clamorosa, cioè quale sport ha delle regole fumose, o si gioca nelle sfumature, né i grigi che concede il regolamento. Torno alla partita dello Stadium, guardo Marinelli e penso, onestamente, sembra più che, sembrava davvero un arbitro fuori contesto, un arbitro molto in difficoltà, eppure non è successo nulla di clamoroso. No, no, infatti. Tutto quello che è successo poi è stato dettato dagli interventi del VAR. Io ho sentito anche il tuo video, Lello, e quando dicevi l'episodio del rigore a favore della Juventus, se me l'avessero dato contro mi sarei arrabbiato tantissimo. Io sono d'accordo con te. Oggi Spalletti, ad esempio, parlava di rigorini. Ecco, il campionato è deciso da questi rigorini, e onestamente possiamo soltanto prenderne atto, perché poi tutte le battaglie sono state fatte finora, hanno lasciato un po' il tempo che trovavo. Quindi, da questo punto di vista, credo che non ci sia una soluzione a questo problema. Se si andrà così, vuol dire che anche e soprattutto gli episodi faranno la differenza in un campionato che è paradossale. Va bene alla Champions che è deciso dagli episodi, perché sono gare secche, ma un campionato anche così, francamente, lascia un po' essere fatti. Ecco. In questo caso, la gestione abbiamo visto anche con l'Ipsi a Cree dal Viva, abbiamo avuto una percezione di un arbitro completamente fuori di sé. Sì, dissociato, dissociato completamente. Fuori di testa. L'altra cosa, c'è troppo interventismo da parte del VAR. C'è troppo, 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 troppo interventismo da parte del VAR. Troppo. Le si smorri in certi casi. Anche in questo caso il VAR dovrebbe essere usato nei casi più eclattanti. Se lo usiamo sui minimi contatti, che oltretutto, se tu vai a vedere la dinamica di uno scontro di gioco a velocità reale o a velocità con frame dopo frame, hai un'altra percezione. Si altera completamente il senso di giudizio e poi di conseguenza. Ed è una cosa che mi manda fuori di testa, perché ieri, anche nella valutazione poi di Marinelli, gli sfugge questo. Cioè, uno che corre... Anche gli arbitri non sanno valutare certe situazioni perché non hanno mai giocato a pallone, probabilmente. Perché non hanno mai fatto uno sport di contatto. Però, ragazzi, il problema è grosso. Perché non è che stiamo parlando solo di Serie A. Noi in Champions l'abbiamo subito di ogni Alizia. Io ho un parentesta tra, la cosa meno importante di quelle che abbiamo subito, Copp Maners, a cui viene fischiato il fallo, col guardaline che era a un metro. Che è lui che sbandiera, poi deficiente che non è altro. Allora, qua mi dissocio e ti assumo le tue responsabilità. Ti assumo le responsabilità. Prima querellina... Prima querellina te la becchi... No, a parte che poi va a coro, quindi... Corbo ride, ma te la becchi tu. A coro poi piovono direttamente e indirettamente. Io fortunatamente ho la parte editoriale in mano. Tu c'hai la... Di famiglia. Comunque, ragazzi, il problema è che sono scarsi a ogni latitudine. Cioè, perché se uno mi dicesse Oh, sono solo quelli italiani, il bar non funziona solo... Vabbè. Poi, a parte che ho visto delle robe anche in Spagna atroci. Sì, sì, sì. Le robe... Quindi ha ragione il nostro amico, se non sbaglio abbonato anche, quindi a maggior ragione lo valorizziamo. Che dice, il tennis... Ah, Luca. Luca, Carlo, che è il nostro affezionato, lo salutiamo veramente, a parte gli scherzi. Cioè, nel tennis, la pallina. O è dentro il campo, o è fuori. Punto. Da noi ci sono mille interpretazioni. Ma anche... Abbiamo visto anche linee tracciate e sbagliate per quanto riguarda gli offside. Ad oggi, forse, l'unica cosa che funziona realmente è la goal line technology. Palla dentro, palla fuori, supernatura linea, tutta, no? Qualche altra situazione? Sì, sicuramente la tecnologia ti aiuta. Poi, però, se entriamo nel campo delle interpretazioni personali, non ne usciamo più. E secondo me, stiamo andando verso una direzione atroce. Stiamo facendo i passi del gambero. Cioè, ve lo ricordate il primo anno del VAR? I primi due o tre mesi? Proprio con la prima partita a VAR, c'era la Juventus. Allo stadio. Cioè, interveniva il VAR ogni cinque minuti, su qualsiasi cosa. Stiamo tornando lì e non va bene. Posso... La mia controproposta è ancora valida. È dal giorno zero. Dal giorno zero che dico che il VAR va fatto a chiamata. Punto. Eh. Punto. Evi tutto quello. E interpretazione dell'arbitro. Se sbaglia, pazienza. Dallo momento in cui una società reputa di aver subito un torto, alza la mano, chiama l'arbitro, va a rivedersi l'episodio e lo si valuta. Eh, lo so. Anche secondo me il challenge potrebbe essere utile. No, ma se inizi a intervenire per ogni cosa, questo VAR ci leva una marea di tempo. Lo so, però tu metti un challenge, no? Magari uno per tempo, per panchine. Facciamo un esempio. E uno deve sperare i tempi. Non lo so, ragazzi. Non lo so. No, no, no. Allora, il VAR va bene per i fuorigiochi, cioè che è automatico per i fuorigiochi. Eh, sì, ma anche lì sai che qualcuno ti può dire, però, le linee spesso e volentieri vengono tracciate. Io, tra l'altro, io l'ho visto il 2-1 della Fiorentina. Ma, cioè, è così chiaro che non fosse fuorigioco? La posizione, cioè, io ho anche, io sarò malpensante ma a volte e a volte ho dei dubbi. Ma non sul fatto che dietro ci siano dei disegni. Proprio sull'utilizzo, cioè, sulla lettura, no? Della tecnologia da parte delle persone preposte. Non lo so. Oh, lo fai automatico. Però, ragazzi, qualcuno mi dice il VAR va messo con tutta la... Dove essere deciso dai robot. Eh, ma i robot vanno parametrati dagli umani, per cui se gli ha regole fumose e stia nel grigio un robot credo che vada a fuori. Oggi vuole anche un po' di buonsenso, perché anche la parte degli stessi arbitri ieri, perché devi spellere. La cosa che non ho capito io di ieri e ve la chiedo, per il rigore concesso al Cagliari. Sì. L'arbitro vede la situazione, la vede, la valuta, dice alzati, 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 come può essere quello chiaro ed evidente errore? Se si va a valutare solamente la... come si dice? La vigoria del colpo. Vigoria. Insomma, ci siamo capiti. La vigoria, la vigoria. La vicissità del colpo. Non ti buttare giù che c'hai un'altra laurea. Non sa te, dove... Le due lauree, non te lo dimenticare mai. Ne ho una, ne ho una, ne ho una. Grazie alle due lauree. L'altra, purtroppo, c'era vigoria. L'altra ha preso il muro, fratelli. Esatto. Ma però, il discorso è, com'è caspita possibile che non si valuti questo aspetto qua? Cioè, ieri l'arbitro aveva la valutata e poi viene richiamato. Marelli l'ha detto, Marelli nella... Forse non all'inizio, però subito dopo... Marelli ha detto anche che era già lo consensavo, e secondo me... E poi ha rettificato, però, eh. Ha rettificato. Open VAR ha detto che era stato troppo severo in presa dire. Eh. Però la sensazione era questa, cioè che non fosse un chiaro ed evidente errore, soprattutto perché la valutazione dell'arbitro c'era stata. Detto che, onestamente, a me sembrava calcio di rigore e magari, sai, ti richiama il VAR per il VAR e oggettivamente un calcio di rigore, allora lì cambia di nuovo tutto. Però la tua proposta serviva soprattutto a quello lì, no, Lello, e serviva a responsabilizzare gli arbitri. Cioè, non può arbitrare una macchina se c'è un uomo in campo. Questo, secondo me, è il sale del discorso. Se ci sono le persone preposte a fare quel tipo di lavoro, oggettivo, decidiamo, cioè, come si fa a capire cosa è oggettivo? Come si fa a capire cosa è soggettivo? è filosofico il tema, non è neanche calcistico. cosa è oggettivo? Come si fa a capire cosa è oggettivo? Come si fa a capire